Ben trovati e ben trovate dal vostro Andrea Cartotto. Ebbene, quest'oggi vi racconto due grandi donne. Due donne che hanno caratterizzato la storia della tecnologia. Pensate un pochino nel corso della storia. Partiamo dal 1800. Ecco qui. Questa foto che state osservando a favore di camera, gli abiti dichiarano il periodo storico, è in realtà un ritratto. Siamo nel 1800. La donna che osserviamo in figura è Ada Lovelace Byron, figlia di Lord Byron. Siamo in Inghilterra. La possiamo considerare la prima programmatrice della storia. La donna, la matematica, che ha previsto quasi nel futuro cosa e come sarebbe stato un computer. Pensate. Quindi, da Ada Lovelace Byron, che appunto, grazie ai suoi calcoli, ha poi contribuito in qualche misura allo sviluppo anche della macchina analitica, giungiamo a lei. Vedete in questo caso una divisa, una posa perfettamente militare. Qui abbiamo Grace Murray Hopper. Grace Murray è più vicina a noi in termini di tempo. È morta nel 1992. Ufficiale della Marina Militare Americana contro Ammiraglio. Ma è in realtà nota, e a voi ragazzi e ragazze che mi state vedendo, racconto che si deve a lei il termine Bug. Ebbene sì. Se noi lo traduciamo letteralmente, Bug sta proprio per insetto. Ebbene, la storia ci racconta che durante i suoi calcoli, il suo utilizzo delle macchine, nel periodo storico in cui si trovava Grace Murray Hopper, che ha appunto vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, risolse il malfunzionamento di un computer estraendo per l'appunto un insetto. Il Bug, appunto. C'è una foto che circola in rete, che vi invito a ricercare, dove proprio si vede una pagina di quaderno all'interno della quale, insieme agli appunti di Grace Murray Hopper, si trova questo primo bug della storia. Racconto dunque queste cose a voi tutti, ma in particolar modo alle ragazze, alle giovani studentesse, affinché comprendano quanto ciascuna di loro possa davvero ambire ad un ruolo importante nelle cosiddette discipline STEM o STEAM, Science, Technology, Engineering, Art e Math. Il contributo di ognuno è importante, è un apporto uguale. La parità di genere è anche una conquista che dobbiamo ricordando le invenzioni e le tappe della storia che hanno visto protagonisti grandi uomini e grandi donne.